Buongiorno a tutti, sono Roberto Briscese, distributore account manager per l'Italia di Axis Communications. Nella presentazione di oggi tratteremo un tema molto attuale, quello di sentirsi al sicuro, riflettere oggi per crescere domani. La pandemia da coronavirus ha cambiato le nostre abitudini e il modo in cui viviamo la quotidianità. La situazione attuale ha portato all'incremento di varie restrizioni, con ripercussioni in primi sulla libertà individuale, ma anche influito sull'operatività del nostro sistema sanitario, sulle società, le organizzazioni, le scuole, ma anche sulle istituzioni pubbliche e private. La pandemia non ha solo messo in primo piano la nostra salute, ma ha avuto un impatto importante anche sull'economia globale, a causa dei vari lockdown e delle restrizioni collettive. Siamo stati testimoni di un cambiamento nel modo di gestire il lavoro e nel modo di vivere le nostre vite. Molti dei nuovi atteggiamenti imposti dalla pandemia, come distanziamento sociale, riunioni virtuali, rafforzamento delle misure di igiene, molto probabilmente rimarranno presenti anche nelle nostre vite durante il graduale ritorno alla normalità. Ed è in quest'ottica che nel dettaglio oggi parleremo di tutte quelle che sono le soluzioni Axis approvate, testate e progettate per aumentare la sicurezza e massimizzare le performance sul lavoro e l'efficienza in termini di operatività. Innovazioni che offrono maggiore sicurezza, una cosa estremamente importante durante una pandemia. In questa panoramica ecco alcuni esempi che approfondiremo. Partiremo dal controllo accessi touchless agli edifici, passeremo poi per il sistema di avviso pubblico attraverso messaggi vocali ed avvisi, fino ad arrivare a una comunicazione da remoto per mantenere la distanza fisica. La gestione delle folle, la stima delle presenze per monitorare e controllare il flusso di persone, tema attualissimo e di grandissima importanza. Il live streaming e la trasmissione in tempo reale per mantenere operative tutte le attività quotidiane, così come anche importanti sono le soluzioni per il controllo da remoto per gestire diversi siti a distanza e in sicurezza. Tutte queste soluzioni ovviamente ci hanno permesso, ci permettono e ci permetteranno di andare avanti con il nostro lavoro quotidiano, mentre proteggiamo noi stessi in primis, ma anche le persone intorno a noi. Così oggi come domani. Partiamo dal controllo accessi touchless. Con il controllo accessi non ci sarà più bisogno di aprire manualmente le porte ai visitatori autorizzati, farli entrare o essere fisicamente presenti. Infatti per accedere all'edificio i visitatori otterranno sul proprio smartphone un QR code al posto di un badge. Per loro sarà facile permettere l'accesso in determinati orari specifici e se qualcuno dovesse cancellare o modificare l'appuntamento sarà possibile revocare o cambiarne l'accesso. In questo modo si avrà sempre il completo controllo conoscendo quando i propri ospiti sono all'interno dell'edificio e quando l'avranno lasciato in un secondo momento. Come si può fare per far sì che ciò avvenga in maniera operativa? Con Axis Visitor Access, che è un software incluso nel prezzo del controllo accessi Axis ed è facile da configurare. Il sistema ovviamente richiede la presenza dell'Axis A1001, il nostro controllo accessi, che arriva già precaricato con Axis Entry Manager. Axis Visitor Access genera un QR code e permette alle telecamere o al videocitofono di agire come un lettore che scansiona il codice stesso generato e consente quindi l'accesso al visitatore. I campi di applicazione come vertical di mercato sono svariati, non pensiamo soltanto al mondo degli uffici e del retail, ma anche a quello dell'hospitality e dell'healthcare. Passiamo ora ad un'altra soluzione, i sistemi di avviso al pubblico. Essi possono rispondere alla necessità di diverse tipologie di messaggio e di diversa comunicazione, in diversi ambienti anche in questo caso, dalle scuole ai negozi, agli hotel, edifici pubblici e qualsiasi contesto urbano in qualsiasi città. Come può farlo? In tre diverse modalità. Nel primo caso si può mandare un messaggio ricorrente che si attiva ogni tot tempo. In questo messaggio si può ricordare alle persone di lavarsi e di igienizzarsi le mani, ricordare loro di mantenere il corretto distanziamento fisico, oppure di rimanere a casa se si manifestano particolari sintomi sospetti. Nel secondo caso invece si possono utilizzare comunicazioni che vengono attivate da determinati eventi allarmi. Anche in questo caso si possono informare le persone che un'entrata è stata convertita in uscita e che il flusso di ingresso è quindi cambiato, oppure informarle che è stato raggiunto il numero massimo all'interno di una determinata aria che quindi devono attendere il loro turno per entrare. Nel terzo caso invece si possono mandare messaggi vocali live, quindi dal vivo, con un operatore che quando una determinata situazione richiede un intervento attivo immediato e da parte di una persona. Ad esempio in caso di improvviso soprafollamento di un'area ricordare alle persone di mantenere la corretta distanza fisica. Nel primo caso i messaggi ad interventi programmati si basano sull'utilizzo di uno più oltoparlanti axis, collegati tra loro in rete, dove si possono precaricare messaggi registrati secondo tempi e aree definiti. In questo modo possiamo comunicare un messaggio nell'area A a una distanza di 10 minuti, mentre nell'area B con maggiore frequenza. Quindi avremo la possibilità di decidere determinati messaggi in determinate aree con una determinata frequenza. Nel secondo scenario invece gli annunci sono attivati da eventi derivanti da input, input che può arrivare ovviamente da un altro device Axis. Per esempio messaggi che vengono attivati da specifici eventi, che aiutano a controllare quante persone sono autorizzate ad essere presenti in quel determinato edificio o a quella determinata ora. Qui ci vengono aiuto anche alcune delle analitiche Axis. La prima è l'analitica Axis Occupancy Stimeto. Caricata su una telecamera Axis si basa su una soglia massima predefinita attiva un messaggio audio registrato che informa sul numero massimo di persone a cui è permesso l'ingresso per ragioni di sicurezza. I messaggi possono essere trasmessi a tutti gli altoparlanti nello stesso momento e ne specificare. O ancora l'analitica Axis Q Monitoring, che può stimare il numero di persone presenti in una quota di una cassa e se il gruppo supera il numero considerato sicuro può essere trasmesso un messaggio audio di mantenere la distanza oppure andare verso un'altra cassa. Un altro campo di applicazione è quello in cui si possono mandare messaggi vocali in diretta e quindi avere non soltanto tutto precaricato e predefinito ma avere un intervento umano. Infatti se l'operatore da una control room nota che c'è una situazione che richiede un intervento immediato può reagire attivando un messaggio audio personalizzato in base alla situazione. In questo caso ovviamente con l'intervento umano avremo la necessità ovviamente non soltanto di avere altoparlanti e telecamera ma anche di avere il microfono in P per passare la comunicazione. Rimanendo sempre nel campo audio ci spostiamo sul concetto di comunicazione remota di cui in quest'ultimo anno ne abbiamo sentito effettivamente un grandissimo bisogno. Comunicare ed ottenere un rischio controvisivo senza avere contatto fisico così come consentire l'accesso a distanza e trasmettere comunicazioni in tempo reale. Ad esempio il personale ospedaliero può monitorare e comunicare con più pazienti senza dover entrare per forza nella stanza e questo significa efficientare il processo ovvero dare meno cambi e spreco di vestiti o dispositivi di protezione individuale al personale medico e al contempo ovviamente evitare di compromettere la sicurezza dei pazienti passando da una stanza all'altra. E come farla questa comunicazione da remoto? Beh ci vengono in aiuto i videocitofoni axis che offrono sicurezza ed ingressi senza alcuna difficoltà. Si può parlare con i visitatori faccia a faccia da una postazione remota con un'ottima qualità audio. In più ci sono i modelli che dotati di un rettore integrato per il controllo accessi RFID offrono un accesso ai locali sicuro e senza intoppi sia per impiegati che per visitatori autorizzati. I videocitofoni possono anche essere utilizzati come punto informazioni o telefono di emergenza sia all'interno di un'area vasta come nei parchi o nelle piazze di una città piuttosto che all'interno di una scuola o di un'università. I videocitofoni axis possono al contempo migliorare lo stesso sistema di videosorveglianza essendo più punti all'interno del sistema che vedono e quindi garantire una maggiore sicurezza generale. Perché no? Con le analitiche video precaricate sul videocitofono stesso è possibile attivare registrazioni audio o registrazioni video dedicate. In ultimo ma non per ordine di importanza i videocitofoni di rete axis soffrono anche un'alternativa più intuitiva e flessibile alla normale reception tradizionale che non necessitano ovviamente di ulteriori attrezzature aggiuntive. Ma non solo videocitofoni, infatti la comunicazione remota si può fare anche con le telecamere. Ad esempio in questo slide la axis M3037 PVE ha un microfono e un altoparlante ricorporato. Questa mini dom compatta e resistente agli agenti atmosferici combina quindi una comunicazione audio bidirezionale priva di eco e con una vista panoramica. Quindi ci dà la possibilità di comunicare e ottenere un monitoraggio visivo senza essere fisicamente sul posto. Quindi ascoltare, parlare e vedere e rilevare le attività tracciando un flusso di persone aumentando la consapevolezza della situazione a 360 gradi. Spostiamoci su un altro tema tra i più dibattuti in questo periodo. Il monitoraggio della folla e la stima delle presenze. Questo è ovviamente stato fatto al fine di evitare i cosiddetti e famigerati assembramenti. Anche in questo ambito Axis ha le sue soluzioni specifiche che permettono fondamentalmente tre cose. La prima è monitorare e gestire il traffico dei visitatori. La seconda è fissare una soglia massima per gestire il numero di persone da mettere all'interno di uno spazio illimitato. E terzo attivare determinate azioni come pulire, fermare il flusso di persone, richiamare l'attenzione personale extra per la gestione delle code, eccetera eccetera. E come fare questo monitoraggio folle con le soluzioni Axis? Le soluzioni Axis nel mondo del monitoraggio folle sono diverse e sono legate principalmente alle analitiche. Il primo è l'Axis PeopleCounter, un tipo di soluzione che sicuramente è conosciuto da tempo ed è stato utilizzato per parecchi anni in ambito retail. E che cosa fa questo Axis PeopleCounter? Conta il numero di persone che entrano o escono da un edificio o da un sito in un determinato orario. Funziona con metodo statistico ma ci dà la possibilità di pianificare in base all'analisi dei numeri ma anche prendere decisioni, agire tempestivamente, migliorare i servizi e l'efficienza operazionale. Accanto all'Axis PeopleCounter ovviamente abbiamo un'altra applicazione che è l'Axis Occupancy Stimeto che fornisce anch'essa dati in tempo reale sul numero di persone presenti all'interno dell'edificio del sito. In questo caso è possibile sincronizzare molteplici unità all'interno dell'edificio e aggiungere altre telecamere in qualsiasi momento. Configurazione, gestione e monitoraggio da remoto rendono più semplice visualizzare le statistiche da diverse telecamere in diverse postazioni e nello stesso momento. Come applicazione autonoma di analisi ad esempio può essere impostata per attivare uno o più eventi e trasmettere un suono quando ci sono tot persone che superano il numero consentito e allertare lo staff per un intervento immediato. Anche l'Axis Q Monitor è un'applicazione vantaggiosa per la gestione e l'analisi delle code. Essa fornisce dati in tempo reale che possono servire a identificare dove si verificano gli imbottigliamenti, comprendere la tempistica del ciclo di servizio e migliorare l'esperienza generale del consumatore. Anche in questo caso i campi di applicazione sono molteplici, dai negozi ai supermercati agli hotel agli edifici pubblici alle banche. Axis Q Monitor fornisce statistiche su durata delle code e la sua flutrazione lungo il corso dell'intera giornata. Queste importanti informazioni ci aiutano a migliorare la pianificazione del servizio, gestire le code più efficacemente e migliorare le performance del proprio business. Dopo la gestione delle code e delle folle andiamo a vedere un'altra applicazione molto interessante che in questo periodo abbiamo cambiato il modo di incontrarci e comunicare. Infatti dai meeting dal vivo, dagli eventi dal vivo come era il Solution Forum e le lezioni in presenza, siamo passate ad una loro versione interamente digitale. In futuro si prevede che ci sarà un ritorno alla normalità, sebbene questo concetto ibrido rimarrà e quindi ci sarà la possibilità di avere persone in presenza e persone da remoto. Axis con l'Axis Live Streaming dà la possibilità alle persone di incontrarsi a prescindere dal tempo e dal luogo, attraverso una diretta streaming e una trasmissione in tempo reale. Condividere informazioni con un pubblico più ampio come quello di un auditorio, di una classe scolastica ma anche di un luogo di culto è una cosa estremamente interessante e efficace in un periodo come questo. Soprattutto quando non c'è concesso viaggiare, riunirsi, i meeting virtuali, le trasmissioni in diretta permettono di mantenere l'operatività giornaliera, incoraggiano l'istanziamento fisico e permettono una collaborazione più efficace e sostenibile sia da un punto di vista aziendale che da un punto di vista di impatto ambientale. Axis Live Streaming si basa ovviamente sull'utilizzo di un hardware dedicato, che è la serie Axis V59. Sono telecamere che offrono un'eccellente qualità video e un audio ovviamente professionale per un impeccabile streaming dal vivo e una trasmissione in diretta a livello broadcasting. Inoltre l'interfaccia aperta rende molto più semplice l'integrazione con sistemi di terza parte. L'ultimo ambito che andiamo a toccare, non sicuramente per ordine di importanza, sono le riunioni e le soluzioni per il controllo remoto. È ormai un dato di fatto che tutto sia controllabile remotamente e questo rende la vita più semplice e più sicura per le installazioni e per gli amministratori di sistema. Non c'è più bisogno di recarsi fisicamente presso il sito per progettare un sistema di video sorveglianza, connesso a telecamere da remoto, gestire dispositivi o aggiornare i firmware o rinnovare dei certificati. Ma come farlo? Beh, in primis attraverso una piattaforma di gestione software, un VMS, e noi nello specifico abbiamo Axis Camera Station. Questo VMS integra tutte le soluzioni che avete visto poc'anzi ed ha la possibilità ad un operatore di gestire e prevenire in modo efficace le situazioni critiche, operando da una postazione a remoto. Con Axis Camera Station si può tenere una panoramica istantanea di tutto quello che sta accadendo sul sito, infatti permette comunicazione dal vivo con staff e clienti, ma anche imposta azioni automatizzate, usando le analisi per trasmettere un messaggio audio registrato. In più, con l'app utilizzabile da smartphone, lo staff può tenere d'occhio la situazione da remoto e agire in caso di necessità, o anche dare l'accesso ai visitatori direttamente tramite l'applicazione stessa. Per esempio, quando un visitatore chiama un videocitofono di rete Axis, è possibile vedere, identificare, parlare e poi aprire la porta al visitatore tramite l'app stessa. Accanto al WMS, Axis offre due software di gestione e di manutenzione del sistema stesso. Il primo è Axis Device Manager, uno strumento estremamente efficace che promuove il distanziamento fisico grazie al monitoraggio da remoto di tutti i dispositivi presenti nel sistema. Gli installatori e gli amministratori di sistema possono gestire tutti i principali compiti legati all'installazione, la sicurezza e la manutenzione completamente da remoto. Questo software è compatibile con la maggior parte dei prodotti Axis, dalle telecamere, controllo accessi e dispositivi, e ci dà la possibilità di tre cose fondamentalmente. Gestire più siti da una sola postazione centrale, aggiornare il firme del prodotto verificando automaticamente che si stia utilizzando la versione più attuale, e controllare e rinnovare i certificati HTTPS o IE802.1X. Un altro servizio molto interessante a disposizione dell'utente nell'area del controllo da remoto è l'Axis Secure Remote Access. Questo servizio semplifica significativamente l'installazione dell'accesso da remoto per sistemi di sorveglianza. È una tecnologia che rende possibile per smartphone o PC di accedere alla rete di telecamere quando sono posizionati su reti locali differenti. Sappiamo che connettersi alle telecamere da remoto può essere una sfida, specialmente quando esse sono localizzate dietro a router o firewall. Ma una volta abilitato Axis Secure Remote Access, esso si configura automaticamente ed elimina il bisogno di port forwarding e della configurazione router manuale. Come lo fa? Utilizza dei server di mediazione esterni che sono ospitati e controllati da Axis e stabilisce così una connessione remota. Ovviamente i dati sono criptografati end-to-end, il che significa che possono essere decrittati soltanto da un client e da un server. E con questo siamo arrivati alla fine della presentazione. Come avete visto, Axis innova e rinnova prodotti e soluzioni per un mondo più sicuro ed intelligente, aggiungendo nuove dimensioni e opportunità per migliorare la sicurezza e incrementare l'efficienza delle performance. Così come recita la nostra vision, Innovating for a Smarter and Safer World. Spero che in questa presentazione abbiate trovato le soluzioni che possano fare al caso vostro e nuove opportunità di business per crescere insieme. Ci vediamo in giro, speriamo presto. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie per l'attenzione e buona giornata.